Buonasera a tutti, bentornati in un nuovo video. Questa sera vi ho preparato queste quattro varianti e abbiamo un mix di carte per ciascun mazzetto, quindi abbiamo degli oracoli e anche dei tarocchi. Come testimoni vi ho messo delle bevande in queste figure che sono i mini tarocchi. Variante numero uno abbiamo il vino. Variante numero due abbiamo il margarita. Variante numero tre abbiamo il caffè. E variante numero quattro abbiamo il boccale di birra. Ora radicatevi, centratevi, se avete bisogno di tempo mettete in pausa il video, chiudete un attimino gli occhi e cercate di proprio trovare la vostra centratura. Quando siete pronti prendete una decisione su una delle quattro varianti e ascoltate quella che vi attira di più. Potrebbe anche essere che vi attiri più di una variante, in questo caso potete anche ascoltarne un paio o tre, insomma dipende da quante vi attirano, perché potrebbero esserci anche più messaggi per voi assolutamente. Questo video è valido dal momento in cui lo avete aperto, quindi anche se è stato pubblicato mesi fa, non importa perché è sempre valido dal momento in cui lo aprite. Ok, io passo subito alla variante numero uno del vino. Se avete bisogno di più tempo per concentrarvi mettete pure in pausa. Eccoci qui con la variante numero uno, il vino. Allora, io vedo un oracolo all'inizio della stesa che vi dice è tempo di andare oltre. Da quanto vedo si tratta proprio di qualcosa di amoroso, quindi abbiamo anche appunto le coppie che ci vanno a intendere questo. E' una relazione che la vedo terminata, vedo che purtroppo, o se non è terminata, in ogni caso non ci sono i presupposti per continuarla. E questa persona sostanzialmente, quello che vedo dal nove di coppie al contrario, è che purtroppo non prova sentimenti autentici per voi. Quindi anche se magari voi li provate verso questa persona, sappiate che in realtà questa persona non vi ricambia in un certo senso, oppure non prova più le stesse cose che provava prima. Inoltre abbiamo il folle che ci dice, ci dà un consiglio per voi, quindi proprio di invece buttarvi verso qualcosa di nuovo, iniziare da capo, quindi proprio fare un salto nel vuoto, letteralmente, in modo da iniziare finalmente la vostra vera vita. Probabilmente questa persona, o anche proprio voi stessi, anche se non andiamo a guardare la relazione, ma probabilmente quello che vedo è che voi vi siete un po' tarpati le ali da soli, e poi questo partner è come se avesse un po' contribuito. Che cosa voglio dire? Non avete espresso e non state esprimendo tuttora quello che è la vostra, come dire, tutte le vostre aspirazioni, la vostra follia interiore, la vostra libertà che vorreste sperimentare nella vita di tutti i giorni, con questa relazione, in questa relazione e con questa persona, e anche da soli, perché vedo che è proprio un approccio che vi portate dietro, è come se non aveste mai sperimentato veramente quello che volete dalla vita. Quindi il consiglio del matto è proprio questo, lasciatevi alle spalle questa relazione, andate oltre e poi andate verso finalmente un appagamento, anche che può arrivare semplicemente da come voi prenderete la vita da ora in poi, perché può tranquillamente essere un inizio da soli, in cui scoprirete tante cose proprio facendovi guidare dall'energia del folle e dopo potrà arrivare qualcun altro. La carta del fante di bastone al contrario purtroppo mi parla di una persona che, sempre riferito appunto a questa relazione, che sta terminando o che già è terminata o che sapete che deve terminare, un personaggio infantile, un personaggio che ha un grande fuoco dentro o ha una indole molto incendiabile, possiamo dire, però è una sorta di... cioè è fatto nel modo sbagliato, è una... è disfunzionale questo suo essere infantile, non è quell'essere infantile che dona gioia, vitalità, non è una persona vitale, ecco, magari lo è, ma non lo è nel modo corretto, quello che voglio dire è che questo essere infantile va proprio a diventare qualcosa di, come dire, disfunzionale se vuole poi creare dei rapporti più solidi, infatti non riesce ad avere una mentalità più adulta in certi casi e questo è proprio ciò che ha fatto sì che sostanzialmente creasse una relazione con voi ma poi si stufasse, vediamo col 9 di coppia al contrario, è proprio questo. Se volete possiamo andare a chiarire, io direi di sì, andiamo a chiarire con i tarocchi se si tratta di una relazione tossica o meno, insomma, cioè se questa persona non è più innamorata di voi oppure se questa persona è una persona che tende a manipolare, magari a dire di essere innamorata, ma in realtà non è così, vuole semplicemente tenervi buone, andiamo a vedere. Se non volevate sentire parlare di amore potrebbe non essere la variante per voi oppure addirittura non il video per voi, quindi potete tornare indietro e sceglierne un'altra. Andiamo un po' a vedere che cosa questa persona, che cosa ci dicono i tarocchi di Victoria su cosa prova questa persona, cioè chi è questa persona, chi è questa persona, chi è, chi è in realtà questa persona, ok? Ho il cavallo di croci, chi è questa persona, chi è questa persona, chi è, ok, abbiamo, direi che bastano due carte, abbiamo il 5 e il 6 di rose, dunque questa è una persona che è molto romantica, è molto, guardate, mi sono uscite anche queste due qua, le mettiamo qua, allora è una persona con molto romanticismo perché quando vi ha approcciati questa persona aveva proprio questa cosa, vi ha fatto proprio un'iniezione di positività, di amore, di, come dire, l'avete dolcezza, l'avete sentita estremamente dolce, smielata, comunque in qualche modo, anche se non fosse stata proprio dolcezza mostrata, era come se vi do la trasse, cioè vi ha messo su un piedistallo sostanzialmente, potrebbe averlo fatto in maniera mielosa, oppure anche in maniera, diciamo, anonima, no? Non ha fatto tanto vedere cosa ha fatto, però quello che voi avete percepito è stato proprio questo, quindi un eccessivo, vi ha visti come, o visti, se siete uomini, come una sorta di divinità, o con qualcuno che fosse fantastico, eccetera, e poi con il tempo questa cosa è andata a scemare. Io vedo che questa persona è molto sofferente, ha un'autostima molto, molto bassa, in realtà, e vedo che cerca di colmare questi vuoti che ha dentro con qualcuno, che proprio vada a riempire, no? Proprio andare a riempire i vuoti, come altro possiamo dire, perché questa persona in realtà si porta dietro questa sofferenza che ha da tutta la vita e che non è mai riuscito o riuscita a colmare. Questo è un po' il profilo di questa persona. Vi posso anche dire che quello che vedo è che tende a mostrare qualcosa che non è, tende a costruirsi una sorta di personaggio che però non è, non corrisponde alla realtà, non corrisponde a ciò che veramente è dentro. E infatti, come vi dicevo prima, dentro c'è sotto, insomma, la maschera c'è questo, c'è questa sofferenza che è una sorta di buco nero, no? Che risucchia tutto. Sopra ci metto una bella maschera di rose, no? Di rose che poi in realtà sono rose nere, quindi sono rose che sono finte, morte, o comunque non sono rose vere, non sono, non è veramente un corteggiamento all'inizio della relazione, è qualcosa di costruito apposta per abbindolare la persona. Infatti io vedo poi anche la regina di fiori e questo è l'ideale di donna che lui solitamente cattura, o lei, insomma, o di uomo, ecco, se non importa, insomma, geratevole situazioni almeno, insomma, nel modo in cui vedete che calzano di più con i sessi e con i generi. Io qua parlo di uomini verso donne perché mi viene più comodo, ma poi voi vedete un po' come vi risuona. Questa è proprio la donna che cade nella sua trappola. Come potete vedere, questa donna è una donna triste e con questa rosa in bocca, quindi una di queste sue rose nere in bocca. La tiene perché è bella la rosa, le fa piacere riceverla, però come potete vedere si punge perché per tenerla in bocca si taglia, si punge con le spine, proprio appunto fino dentro sulla lingua, eccetera, quindi poi c'è questa colata di sangue e le donne che solitamente si interfacciano con questa persona, quindi penso anche voi, si sono trovate tutte un po' ad avere questa cosa, cioè a vivere questa cosa, a prendere questa rosa in bocca, tenerla appunto in bocca, come quasi a ballare il tango della morte, ma poi alla fine a essere punti o punte dentro con le spine, quindi questo è quello che emerge. Vedo anche che c'è un, sul fondo del mazzo non ve l'ho fatto vedere, perdonatemi, era lì, un asso di farfalle e il consiglio di questi tarocchi che mi danno per voi, come dice l'oracola all'inizio, via, andate, scappate, a gambe levate, cercate di andare oltre, mettete fine a questa relazione perché, come vi dicevo prima, è solo un buco nero che vi può risucchiare. Vedete questa farfalla proprio, anche se intorno a lei c'è il gelo, e la neve, e il freddo, lei si libra nell'aria e va, va e vola via a cercare dei luoghi più caldi, magari vola in un posto più caldo, alle Maldive o in Florida, cercare, insomma, le spiagge, no? Quindi il sole, adesso vi ho fatto degli esempi, però per farvi capire che anche se intorno a voi vedete tutto quanto gelato, tutto raffreddato, voi avete le ali per andarvene, e voi siete piene o pieni di magia, perché questa farfalla lascia proprio i, diciamo, le luccichi della sua magia, no? Dietro di lei, come una scia quando si alza in volo. Quindi voi dovete fare esattamente questo, dovete librarvi nell'aria e dovete andare via, verso posti più caldi, verso il sole, verso qualcuno che vi possa finalmente appagare. Allora, io direi una cosa, vorrei chiedere con questi mini messaggini della persona che cosa vorrebbe dirvi questa persona e vediamo un po' il messaggio che arriva. Che cosa vorrebbe dirvi questa persona? Che cosa vorrebbe dirvi? Non sto guardando, innanzitutto vi dico, eh. Ok, ti ho tradito, ho tradita, quindi se vi stavate chiedendo se questa persona vi ha traditi, sì. Perché, come vi dicevo, proprio tende a fare questa cosa qui non solo a voi, ma proprio a tutte le persone che, cioè, le ragazze o le donne, eccetera, o uomini, in caso, appunto, le sue predi siano uomini, che, che proprio, che ritiene normale questa cosa, no? Nel senso, tende a fare la stessa cosa, a trattare le persone, tutte quante nello stesso modo. Fa lo stesso trattamento, lo stesso incantesimo a tutte. Questo è quello che succede. E poi, sì, ci si ritrova così. Ma perché questo, questo dolore? E, sapete una cosa, non è, non è un, come dire, una responsabilità vostra, se questa persona sta così. Perché, ci si può avere i più grandi dolori dentro, ma ci si può anche muovere per risolverli, per curarli. Voi state facendo proprio questo, giusto? Voi state cercando di curare da soli i vostri dolori, quindi perché questa persona non dovrebbe farlo, e deve andare a sfruttare gli altri, e fare questo? No, ragazzi, non è sano. Ok, quindi questi sono i consigli. Comunque abbiamo la carta dell'oracolo, che ci dà un ulteriore delucidazione, ci dà un, diciamo, un consiglio, ci tira un pochino sul morale, perché dice la situazione migliorerà, non si tratta di questa persona, ma, cioè della vostra relazione, ma si tratta di voi, quindi se voi ascolterete i consigli degli oracoli, o comunque anche il vostro intuito, perché immagino che siete in una situazione del genere, probabilmente anche il vostro intuito vi avrà già detto cose di questo genere, quindi se ascoltate tutti questi segnali, e vi levate da qui, come questa bellissima farfalla, la situazione migliorerà nella vostra vita, troverete gioia, serenità, e finalmente, soprattutto, un magari partner migliore, che vi voglia bene, che vi ami davvero, ok? Io spero di esservi stata utile, se vi va, lasciatemi nei commenti un racconto di cosa vi sta succedendo, come è andato il rapporto con questa persona, se vi va, proprio lasciatemi il vostro feedback, così io rispondo, e magari vediamo di trovare una soluzione insieme, ok? Io passo subito alla variante numero due, noi ci vediamo domani alle 20 con un nuovo video, vi abbraccio, ciao ciao! Eccoci qui con la variante numero due del Margarita, allora, qui abbiamo un messaggio veramente bello, quindi sono molto felice per chi ha scelto questa variante qua, mi dice l'apertura dell'oracolo il tuo desiderio si avvererà, io vedo che qui voi state sognando un partner giusto, un partner premiante, che arrivi la persona giusta, che finalmente troviate qualcuno che vi vuole bene, che vi ama davvero, e che vi ami incondizionatamente, una persona che vi faccia sentire finalmente quanto valete, apprezzi, sei in grado di apprezzare il vostro valore, ecco io vedo questo, che il vostro desiderio si avvererà, qui abbiamo un re di coppe che me lo conferma, proprio perché come potete vedere questo è il, in questo mazzo poi, è proprio il re del mare, quindi questa persona che incontrerete incontrerete, avrà fatto un lavoro su di sé, un lavoro spirituale, introspettivo, molto 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 grande, sarà una persona che sa il fatto suo, ha un carisma naturale, ma non è un carisma dettato da narcisismo, oppure non è una persona che, per dire il bello è misterioso, il bello è maledetto, assolutamente no, sarà una persona equilibrata, sana, è una persona che sa che cosa ha dentro, sa che cosa ha nell'inconscio, è andato ad esplorare sia i suoi lati più belli, sia anche quelli più brutti, quindi sa esattamente che cosa ha dentro, e in questo modo, avendo completamente la padronata di se stesso o se stessa, non va a riversare, diciamo, le sue parti tossiche sugli altri, ma è perfettamente in grado di gestirle, e di manovrarle in modo da non fare del male agli altri, è una persona che vi darà proprio vedo a mano una coppa, quindi vi porterà, arriverà verso di voi portandovi proprio del sentimento vero, del sentimento autentico, è un uomo molto bello, è un uomo che ha anche delle persone da presentarvi, delle persone che saranno poi parte di quella che sarà una vostra possibile nuova famiglia, quindi qualcuno che, su cui potrete contare, quindi non potrete contare soltanto su quest'uomo o questa donna, se risuona di più per voi che state cercando una donna, vedete un po', io parlo per, diciamo, comodità, ok, di uomini, però potrebbe anche essere una donna, la donna giusta, dicevo, non sarà semplicemente che potrete finalmente fidarvi di questa persona, ma proprio anche di tutte le persone che vi presenterà, saranno tutte persone molto affidabili e che vi piaceranno, con cui vi sentirete finalmente liberi o libere di aprirvi, di mostrare chi siete senza paura di essere giudicati, perché sarete accettati, lo sentirete proprio a pelle, sarà una sensazione bellissima, quindi sono molto felice di dirvi questo, ho anche l'otto di denari che mi dice che con questa persona, allora, può voler dire due cose, o che con questa persona troverete una stabilità economica, perché questa persona è una persona molto benestante e quindi vi darà magari anche questo insieme alla relazione, oppure potrebbe voler dire che voi in realtà state lavorando adesso sulla vostra diciamo parte economica, quindi state mettendo a posto quello che è il vostro assetto economico, potrebbe essere che per qualcuno risuoni questo come per qualcun altro che sta guardando risuoni qualcos'altro, quindi quello che ho detto precedentemente, sono valide entrambelle, visioni perché siete tanti che guardate i miei interattivi, quindi prendete solo quella che vi risuona di più, l'altra lasciatela andare, e dicevo per alcuni di voi potrebbe essere anche che stiate lavorando incessantemente su quelli che sono i vostri progetti, i vostri sogni, oppure anche semplicemente i vostri obiettivi di vita, finanziari, economici, quindi di avere una stabilità, vedo che avete questo avanzamento proprio, e sarà un avanzamento per tanti di voi vedo che proprio è qualcosa di passionale, cioè siete probabilmente delle persone che stanno facendo della propria passione un lavoro, quindi proprio sono due carte che vanno insieme di pari passo, quindi quello che è l'avanzamento della gioia, della passione, quindi andando proprio a fare qualcosa che vi piace andrete anche a costruire una solidità economica, quindi questo è molto bello, se invece si tratta di l'altra visione che dicevo, quindi il partner che vi porterà stabilità economica, sappiate che questo partner ha una parte molto molto diciamo saggia, matura, però ha anche una parte molto vitale, quasi giovanile, no? Molto molto giovane dentro questa persona, quindi vi porterà proprio vitalità e in ogni caso comunque questo è valido perché le carte sono uscite insieme, quindi in ogni caso sarà una persona di questo tipo, sono molto felice di dirvi questo, ricordatevi una cosa però, e cioè solo se ci credete questa cosa succederà, voi probabilmente avete formulato l'intento di di attrarre una persona del genere che arrivi una persona del genere nella vostra vita, se ancora non avete formulato l'intento il che mi sembra strano perché se no non avreste visto questo video secondo la legge d'attrazione, però se non vi sentite ancora di avere diciamo manifestato proprio un intento aver chiesto all'universo questa persona potete proprio lanciare l'intento, ok? E poi dopodiché dovete soltanto aspettare, quindi ci dovete credere, dovete affidarvi all'universo e se ci credete allora l'universo vi manderà finalmente questa persona. Mi raccomando, vediamo se questa persona ha un messaggio per voi da darvi. vediamo un po' se ha qualcosa da dirvi. Ok, vorrei le cose più serie. Qua si corre già, qua si corre già, no, ovviamente dovete ancora incontrare, vabbè, potrebbe anche essere però una persona che avete già incontrato, non avevo preso in considerazione questa cosa, Eh sì, potrebbe essere, per alcuni di voi vedo possibile che già conosciate questa persona e che magari siete già anche in una relazione ma vogliate le cose più serie ma non siano ancora diventate più serie, magari un matrimonio, una convivenza, un ufficializzare un fidanzamento e vedo che questa persona vi vorrebbe dire che vorrebbe le cose più serie, quindi sì, penso che che sia ricambiato questo, se invece non avete ancora incontrato questa persona sappiate che questa persona vorrà fare le cose serie con voi fin dall'inizio quando la incontrerete, quello che voglio dire è che questa persona sarà proprio, non arriverà da voi con un intento prima di iniziare in maniera frivola o divertirsi, sarà una persona che arriverà proprio con questa voglia di costruire, ok? Quindi, molto bello questo messaggio direi, sono molto felice per voi perché avete scelto la variante numero 2, io spero di esservi stata utile di avervi sollevato un po' il morale con queste bellissime notizie, noi ci vediamo domani alle 20 con un nuovo video, io passo subito alla variante numero 3. Eccoci qui con la variante numero 3, la variante del caffè, allora, questo messaggio purtroppo non è molto positivo, infatti vi dico che il caffè diciamo che ci ricorda un po' quello che voi dovete magari state bevendo tanto nelle vostre giornate proprio per darvi un po' una carica perché in realtà siete molto giù di morale, quello che vedo è questo e quindi tendete un po' a cercare di tenervi su in questo modo. Allora, all'inizio della stesa ho la carta di lasciarti andare al contrario, questo significa che in questo oracolo purtroppo non non vi sentite nelle condizioni di lasciarvi andare quindi è come se foste perennemente in tensione foste perennemente sull'attenti sulla difensiva ok? Allora, poi vabbè non tutti bevono caffè c'è chi non lo beve di voi quindi non non devo vedere questo per forza però alcuni lo bevono quindi l'ho detto per alcuni che può risuonare io vi dico una cosa se bevete caffè ragazzi magari diminuite un po' o non bevetelo perché potrebbe farvi diventare ancora più stressati e già vedo una situazione di molto stress quindi forse è un consiglio che vi doveva arrivare per qualcuno di voi non lo so comunque io ve lo dico e per altri niente non consideratelo andiamo a mettere la lettura allora purtroppo io vedo che adesso in questo momento è come se non vedeste proprio una delle opportunità davanti a voi cioè è come se il mondo fosse un po' caduto in pezzi il vostro mondo e magari avete chiuso da poco una relazione molto dolorosa oppure da poco avete cambiato qualcosa nella vostra vita avete cambiato lavoro o vi siete trasferiti avete insomma avete perso un po' le vostre certezze e soprattutto è come se fosse tutto fermo non vedete un cambiare sostanzialmente cioè non vedete opportunità nuove che arrivano nuova linfa vitale questo è quello che vedo in più abbiamo il 10 di bastoni quindi vi state portando dietro un peso veramente molto molto grande che è proprio lo strascico di questa di questa di questa situazione che si è chiusa quindi voi state proprio portando vi state portando sulle spalle il peso le macerie di tutte quelle che sono state magari le liti oppure le insomma stavo per dire le disperazioni sì la disperazione devo dire che c'è in questa situazione però proprio le mancanze che magari sono state fatte nei vostri confronti o comunque la sofferenza che avete vissuto se avete interagito con delle persone o quello che avete perso se invece si tratta di qualcosa di materiale vedo che c'è la regina di scusate di coppe al contrario questo mi dice che innanzitutto vi siete stufati o stufati letteralmente di essere sempre quelli che danno e che non ricevono perché probabilmente avete sempre avuto un atteggiamento troppo accomodante di persone che davano sempre di persone generose di persone che non chiedevano niente ma davano ok che si sacrificavano ecco per l'altro o per gli altri e questa situazione vi ha fatto talmente male che adesso siete stufi non ce la fate più cioè non potete più pensare di essere quelli che si sacrificano io vi dico che fate bene e che probabilmente questa relazione scusate questa relazione allora potrebbe essere per qualcuno perché se mi è venuta questa parola comunque questa situazione o barra relazione potrebbe proprio essere arrivata perché dovevate capire questo dovevate capire che se se vi vi date troppo vi mettete troppo a disposizione se vi proprio vi date sempre al prossimo diciamo calcolando prima i suoi bisogni che i vostri quando poi magari vorreste solo dire no ecco in questo caso purtroppo fate del male a voi stessi e non va bene perché vi riducete così quindi quindi secondo me questa situazione è proprio arrivata per mostrarvi questo è una lezione per mostrarvi farvi imparare questo l'universo ha un consiglio per voi ovvero fidatevi e posso dire la mia secondo me vuol dire fidatevi di lui perché secondo me sta in realtà anche se voi non vedete delle come dire opportunità o niente di nuovo all'orizzonte in realtà l'universo sta creando nel silenzio tutte quante le come dire le le opportunità quelle la concatenazione proprio di eventi affinché tutto quello che voi vogliate possa finalmente andare a realizzarsi quindi abbiate fede nell'universo non pensiate che sia tutto nelle vostre mani perché tutto questo peso che voi vi tenete sulle spalle lo tenete perché voi credete che dipenda tutto da voi in realtà non è così in realtà l'universo e le leggi universali stanno collaborando con voi quindi cercate di anche rimettere un pochettino i vostri pesi all'universo o comunque al cielo perché potete avere una grande un grande aiuto non dovete portarvi tutto da soli sulle spalle c'è chi vi starà vicino anche persone perché anche persone potrebbero potrebbero arrivare ad aiutarvi assolutamente quindi non pensiate di dovervi portare tutto da soli sulle spalle questa è la cosa importante fidatevi dell'universo e fidatevi anche di quello che voi finalmente sentite qua se voi sentite una rabbia una voglia di non essere più disponibili di negarvi agli altri ascoltatela fidatevi di questa cosa perché vi salverà letteralmente la vita ok allora adesso vado a chiedere ancora con questi tarocchi una carta per voi vediamo se c'è un indizio ok ok abbiamo la regina di croci e il re di croci allora la regina di croci è è una una donna che soffre soffre molto e il re di croci è un uomo che infligge sofferenza quindi non dico che sia per tutti perché magari alcuni di voi hanno semplicemente una questione materiale hanno magari perso il lavoro oppure si sono trasferiti insomma però per alcuni di voi che invece hanno la situazione che hanno chiuso era quella dolorosa era una relazione amorosa io vedo che si è verificata questa roba qua quindi un partner che magari voi ritenete molto bello molto attraente che vi ha fatto del male che nonostante questo continuate a vedere in questo modo però sapete che vi fa solo del male e che è giusto che sia finita è giusto che andiate verso una nuova direzione fidatevi dell'universo perché quello che attirerete dopo non sarà più così ok io spero di esservi stata utile noi ci vediamo domani alle 20 con un nuovo video io passo subito alla variante numero 4 variante numero 4 è con la birra eccoci qui allora ragazzi io qua vedo che purtroppo abbiamo una situazione un po' un po' così c'è la presenza di un personaggio che potrebbe essere un'energia ma anche una persona quindi per chi è single un'energia molto giudicante e molto rigida dentro di voi per chi invece è in una relazione probabilmente questa energia è il partner quindi attenzione perché vedo che come se non foste liberi di esprimervi c'è sempre questo giudizio che arriva arriva costantemente sempre a dirvi no così non va bene sei sbagliato guarda che così è troppo esagerato guarda che insomma ok e se invece è il partner lui sta facendo proprio o lei sta facendo proprio questo allora vi dico una cosa c'è anche l'oracolo di non sei nel tuo potere perché sarebbe sei nel tuo potere ma è uscito al contrario io questi oracoli li leggo anche al contrario quindi quello che vedo è proprio questo non siete nel vostro potere perché siete soggiogati da questa energia o da questa persona e come se non foste neanche in grado di fare introspezioni in questo momento per tanti vedo che proprio è un partner questo qui è come se non foste in grado di andare dentro di voi e di stare un po' da soli a volte anche staccarvi un pochettino da questo partner perché è come se anche se quando non state con questa persona ovviamente ci saranno dei momenti in cui non stiamo insieme però è come se con la mente foste sempre lì foste sempre con lui o con lei e quindi non riuscite a entrare nell'energia dell'eremita che sarebbe proprio quell'energia che vi permetterebbe di andare nell'energia della ruota quindi far muovere le cose far muovere gli eventi e anche voi farvi sentire più liberi e magari anche chiudere questa relazione oserei dire ok quindi attenzione perché questo è proprio un monito non sei nel tuo potere non sei capace di stare da solo da sola nella tua mente fare introspezione andare a fare un attimino di diciamo anche ma non è anche tanto introspezione anche se questa è l'energia dell'eremita però anche proprio solo magari di goderti del tempo da solo o da sola a volte lo fai però non è come se veramente fossi nel tuo potere e questa persona lo sa benissimo quindi attenzione perché vedo che proprio siete molto soggiogati se fosse invece un'energia quindi diciamo un'energia giudicante che avete dentro introiettata dentro di voi vedo che non riuscite a fare introspezione perché c'è sempre questo giudice interiore cioè non lo so appena trovate una parte che non vi piace di voi non siete capaci di analizzarla di accoglierla di accettarla di prenderla come parte di voi stessi perché c'è già lì il giudice con la spada pronto a tagliare la testa a questa parte di voi e quindi questo è molto molto brutto perché anche se si tratta di un'energia come potete vedere non potete andare verso la ruota cioè è come se non non andasse avanti il vostro percorso spirituale siete lì fermi perché c'è questo giudice e questo non va bene vi dico una cosa che potrebbe risuonare solo con pochi di voi quindi mi raccomando se non vi risuona non prendetela in considerazione siete in tanti guardati i miei video quindi probabilmente risuonerà con veramente un un 10% se non anche meno vedo che alcuni di voi hanno problemi di alcol cioè ho proprio problemi di alcol veramente oppure tendono anche se non sono a livelli problematici però magari tendono quando stanno male quando magari hanno un dolore dato dal partner oppure stanno male proprio perché non riescono a risolvere determinate cose ma stanno male tendono ad affogare questo magari in un bicchiere di vino in un bicchiere di birra come questo con l'alcol quindi attenzione se avete questo atteggiamento mi raccomando mi raccomando non è questa la soluzione la soluzione è andare a scovare questo maledetto giudice interiore e cercare di zittirlo e se invece questo è un partner la soluzione mi dispiace dirvelo ragazzi però potrebbe anche essere quella di chiudere questa relazione non è il momento giusto me lo dicono per voi perché non è il momento giusto di agire se voi magari avete in mente dei progetti con questa persona oppure non lo so volete sposarvi volete andare a convivere con questa persona volete creare qualcosa non è il momento giusto perché in realtà non avete ancora capito con chi avete a che fare o se l'avete capito non lo avete proprio elaborato totalmente quindi se avete dei progetti cercate di non correre perché non è il momento giusto potrebbe essere che voi facciate capire in futuro questa persona che si sta comportando in maniera sbagliata e allora in quel caso magari potreste andare verso questo poi creazione di obiettivi comuni ma in questo momento fermi se avete qualsiasi obiettivo sia che sia personale perché questa è solo un'energia sia che sia di coppia perché questo invece è un partner attenzione non è il momento giusto non è il momento per agire non è il momento di fare niente di azzardato è il momento invece di girare al contrario questo eremita e andare dentro di voi fare introspezione capire dove si trova questo giudice quindi dove dovete finalmente andare a sanare per entrare nel vostro potere dovete entrare nel vostro potere sia che sia un partner sia che sia un energia dovete entrare nel vostro potere il vostro potere è quello che vi permette di sentirvi liberi di sentirvi non giudicati di sentirvi apprezzati ok e affermarvi con il vostro potere su quello che voi e su quello che su chi magari vi fa del male come può essere questo partner ok allora voglio vedere una cosa per voi per chi è in una relazione voglio andare a vedere che cosa vi vorrebbe dire questa persona con questi mini messaggini andiamo a vedere che cosa vi direbbe questa persona ok allora sono uscite due carte per alcuni di voi questa persona cioè voi e questa persona non siete più in contatto o comunque avete un attimino vi siete lasciati momentaneamente vi siete allontanati insomma o avete avuto una discussione e non siete in contatto per alcuni di voi per altri invece non è così però per alcuni di voi mi risuona questo infatti questa persona dice torna da me in più vedo questo messaggio che mi fa veramente venire i capelli dritti quindi tanto so che sei lì per me tiratevi voi le vostre conclusioni cioè capite capite adesso questo lasciamo un attimo stare però ragazzi questo è veramente assurdo un re di spade che dice tanto lo so che sei lì per me cioè io penso che non ci sia nient'altro da aggiungere in più era uscita adesso l'avevo girata io ma era uscita al contrario la carta del sei nel tuo potere quindi questa persona vi sta soggiogando cioè proprio ve l'ha detto anche questo messaggio lui lo sa che tanto siete lì per lui non siete nel vostro potere e lui sa che può girarvi e rigirarvi come un calzino come gli pare mi dispiace perché sentirà questo messaggio se magari si sente offeso però devo dirvelo perché magari questa cosa può aiutarvi a entrare nel vostro potere voi valete tantissimo quindi non dovete non dovete farvi trattare così cercate di rivendicare la vostra dignità entrate nel vostro potere e vedete che questa persona probabilmente vedendo l'elemento penso che vedendovi nel vostro vero potere potrebbe anche un attimino ridimensionarsi e capire che forse non siete lì sempre per lui come dice in questo messaggio ok forza per favore non fatevi mettere i piedi in testa perché perché non ne vale proprio la pena direi ok spero di esservi stata utile se vi va lasciatemi un feedback qua sotto c'è un commento ditemi cosa succede se cosa è successo cosa sta succedendo con questa persona io vi rispondo lo sapete mi fa sempre piacere se posso magari esservi utile intanto vi abbraccio e noi ci vediamo domani alle 20 con un nuovo video ciao ciao buona serata